Bene, come qualcuno si ricorderà, il nostro gruppo consigliare ha sollevato a inizio febbraio scorso la questione delle cosiddette opere di compensazione in previsione della costruzione della terza autostradale A1 nel tratto compreso fra Incisa e Valdarno, che transiterà anche nel territorio della nostra città per circa 4,5 km. Ebbene, noi abbiamo sollevato questa questione a febbraio scorso, il sindaco ci ha risposto che stavano studiando qualche opera da poter chiedere alla società autostrade e al ministero delle infrastrutture, ad oggi non ci risulta, almeno a nostra conoscenza, alcuna previsione di questa natura e noi quindi ci appelliamo al sindaco della città affinché una occasione di sviluppo, probabilmente l'ultima occasione di sviluppo per la città di alcune infrastrutture che potrebbero essere appunto a servizio dei cittadini e della nostra comunità, siano eseguite. Proponiamo in questo senso tre cose.